Nel discorso tenuto durante la cerimonia di premiazione alla 34esima edizione del premio Nuove Voci dell'Ohaiku moderno, il vincitore Akano Yotsuba classe 1977 ha definito l'Ohaiku la forma poetica più bella dopo il silenzio, sottolineando con tanti parole quanto la brevità, di fatto quasi prossima al silenzio, giochi in esso un ruolo fondamentale.